A trent'anni si inizia a fumare nel letto, non restiamo più così a lungo seduti sulla panchina degli imputati, né ci allarmano più gli orologi sveglia. A trent'anni si allentano le cinghie, si impara a dormire coi tappi nelle orecchie, si apprezzano le proprietà spirituali della camfora. Dopo aver spalancato le rune, oracoli e analisti, è preferibile consultare il meccanico. A trent'anni iniziano a sciogliersi i pezzi della fisarmonica.